La 38esima edizione dell'Assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, siamo a Parma, con noi il Prefetto di Parma. Prefetto, si parla tanto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, qual è il ruolo dei Prefetti? Come tutte le istituzioni pubbliche e come tutta la collettività dobbiamo essere impegnati a che il Piano venga attuato soprattutto nei tempi previsti. L'impegno maggiore per noi sarà quello di vigilare sulla correttezza, sulla linearità e anche sulla speditezza. Ovviamente i compiti più in dettaglio saranno definiti prossimamente, però questo nostro impegno sento qui di poterlo confermare sin d'ora. Prefetto Garrufi, qual è il ruolo della collaborazione interistituzionale? Direi che è un ruolo massimo. Faccio questo lavoro da oltre 30 anni e della collaborazione, della cooperazione, della sinergia fra i vari livelli territoriali, sia a carattere nazionale che a carattere di ente locale, è stata sempre l'arco di volta, l'arma vincente per superare ogni criticità. Questi approfondimenti che verranno fatti in questi tre giorni parmigiani confermano la necessità, l'assoluta esigenza che fra i vari livelli di governo ci sia il massimo del dialogo e la franchezza della collaborazione. Prefetto, aspettiamo il Presidente della Repubblica. Che tipo di accoglienza dobbiamo aspettarci e soprattutto che cosa ha messo in campo per la sicurezza? Beh, innanzitutto al Presidente Mattarella diciamo tutti bentornato perché è stato poco più di un mese fa a Parma dove ha ricevuto una laurea onoris causa. Ovviamente la visita del Presidente è sempre ben accetta e accanto a quella del Presidente Mattarella anche della Presidente del Senato oggi e dopo domani del Presidente del Consiglio e del Presidente della Camera. Quindi le massime cariche dello Stato. Questo ovviamente impreziosisce questo appuntamento che sappiamo essere già molto affollato con moltissima partecipazione a testimonianza di una grande sensibilità degli amministratori e soprattutto della voglia di esserci. Sul piano della sicurezza abbiamo approntato tutto l'occorrente ancora una volta, per come dicevo prima, in totale sinergia fra tutti i livelli di governo e di coloro che si occupano appunto di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica.